Il nostro figlio è lì dentro. Le condizioni rimangono molto serie e molto gravi dopo questo pestaggio all'interno del carcere. Mio figlio, detenuto Scanni e Alberto, è in gravi condizioni di sfinimento, a Tassia, inedia per tremore fortissimo da debolezza estrema, nella cella di isolamento dell'ospedale di Imperia. Una persona che è nelle mani dello Stato, in un carcere italiano, che viene massacrato. Alberto potrebbe morire da un momento all'altro. E ora abbiamo ben due agenti penitenziari che piantonano Alberto, praticamente un morto, ma noi ne paghiamo due. Non vennero due agenti il primo di maggio che noi abbiamo pietito qua per dire Alberto è fuori di senno, che cosa dovevamo fare? In verità è stato tutt'altro che protetto. C'è gente che non ha fatto niente chiamata da noi e che aveva delle responsabilità ufficiali. Ritengo il mio dovere è provare a prevenire un'autopsia, anche se stavolta sull'omicida. Abbiamo veramente scarsa fiducia in questo Stato. Buongiorno ad Antonella, la mamma di Alberto Scagni. Ciao Antonella, grazie di essere collegata con noi. Abbiamo, come vedrai dal monitor, Doriano Saracino, garanti detenuti della regione Liguria, che fra poco potrà risponderti. e soprattutto capire come, intanto, come sta Alberto. Alberto, tu sei stata informata. Pensate che alcune informazioni le davamo noi della televisione alla famiglia, perché all'inizio questa mamma non sapeva nemmeno come stava suo figlio. Voi siete stati assolutamente utilissimi nella prima fase in cui mi avete messo in contatto con il primario di rianimazione di Sanremo, con il professore Ardizione, che è stato veramente un reparto in cui Alberto è stato curato in una marina molto attenta e con un'umanità anche rivolta al paziente persona, perché prima di tutto Alberto è una persona e poi è una persona detenuta. Improvvisamente, il 26 dicembre, in un batter d'occhio è stato trasferito in una cella di isolamento, perché questo si tratta, è una cella infermieristica, ma in sostanza è una cella di isolamento e poi io penso il garante dei detenuti conforterà questa descrizione, quindi da rianimazione portato in fretta e furia in questa cella infermieristica praticamente abbandonato a se stesso. E quindi voi siete stati, a mio avviso, taumaturgici, ma veramente quando io ebbi contatti con la vostra redazione ed ero veramente disperata, perché io ho visto Alberto nuovamente in situazione di pericolo di vita, cioè appena salvato da rianimazione, dove ricordo è stato un mese, quindi voglio dire il pestaggio era stato veramente massacrante, è stato intubato, nutrito con sondino e poi buttato lì senza essere neanche dissetato. Cioè Alberto è stato messo in questo letto, che era una branda da carcere, senza possibilità di arrivare alla bottiglietta dell'acqua, ma peraltro anche con la bottiglietta dell'acqua si sarebbe fatto una doccia, perché il suo tremore da debolezza era tale che non riusciva a bere. Non poteva fare... Tu stai dicendo Antonella, facci capire, un malato, una persona malata, soprattutto quello che gli hanno fatto in carcere, e quello è tentato omicidio perché lo stavano ammazzando, diciamoci la verità... Quattro ore, eh, quattro ore senza che gli agenti intervenisse. Quattro ore di botte, senza che nessuno intervenisse. Tu mi stai dicendo che adesso in questa cella, dove sta, non ha un'assistenza a questo stai dicendo? I primi quattro giorni, fino al 2 di gennaio, quando io ho contattato in qualche modo la vostra redazione, la vostra redazione si è messa in contatto con l'ospedale d'Imperia, improvvisamente le cose sono cambiate. Si sono resi conto che avevano un uomo alto 1,80 che pesava 55 kg e non l'avevano neanche pesato fino a quando non l'ho chiesto io. E non si nutriva, aveva la febbre, gli ponevano il cibo spedaliero sul tavolo che doveva essere assolutamente fissato a muro, cioè lui non poteva avere neanche un tavolino mobile, così era stato detto dal DAP, dal Dipartimento Penitenziario, e se ne andavano. Cioè, non so come dire, io credo un cane in un canile, ecco, ci saremmo commossi di più. Questo per i primi quattro giorni, devo dire, e infatti il garante è stato presente ieri con me all'ultimo, voglio dire, incontro con Alberto, le cose sono cambiate, si sono resi conto che avevano un malato da curare. Tieni conto che Alberto è in questa cella infermieristica nel reparto di nefrologia, ma in carico a fisiatria, tre piani di sopra. Questo ha anche, diciamo, l'organizzazione clinica, posso dire così, che non aiuta sicuramente. Tieni conto che questa cella infermieristica è totalmente chiusa agli infermieri, cioè tu vai davanti a una porta di ferro. E non c'era nemmeno l'accesso per voi familiari o qualora qualcuno potesse dare assistenza ad Alberto? L'ho avuta come colloquio carcerario classico, quindi ad esempio quando Alberto non mangiava, io ho cercato di portargli qualche cibo di sostentamento, ho dovuto sottostare a tutte quelle che sono le regole del cibo carcerario, con enorme difficoltà, ma ti voglio dire solo una sciocchezza. Alberto cinque giorni non è stato lavato e non si lavava neanche i denti. Io ho tentato di portargli un banale colluttorio, guai che mai, come se avessi portato una Molotov, quindi non mi è stato possibile. Per cui tu non l'hai visto praticamente? Alberto sì, l'ho visto, ma limitatamente alle condizioni di colloquio carcerario. Infatti abbiamo due agenti lì che ci guardano dall'altra parte del vetro, voglio dire, è un colloquio carcerario a tutti gli effetti, che posso anche comprenderlo in condizioni standard. Intendiamoci, non sto dicendo che in un uomo che sta male, che sta male, che non riesce a sollevarsi dalla branda carceraria per bere, a me sembra inumano. Basta, inumano, ma non per Alberto. E perché lo hanno trattato così? C'è qualche, oltre questa disorganizzazione di cui tu stai parlando, ma c'è anche il pregiudizio che Alberto sia un assassino? Il pregiudizio che Alberto sia un detenuto, figlio di genitori molto rompiscato, le lasciamelo dire, perché noi non siamo dei genitori passivi, ma come ben sai, noi abbiamo pendente un esposto in procura in cui abbiamo indicato esponenti di istituzioni, con nome e cognome, non abbiamo fatto una generica accusa, ma abbiamo portato in procura nome e cognome di persone, di istituzioni dello Stato, che non hanno agito. Però con l'ospedale che cosa c'entra questo, Antonella, secondo te? Cioè il fatto che comunque tu hai fatto quello che dovevi fare, no? Attenzione, l'ospedale è in qualche modo, in questo momento, molto, come dire, coartato nelle sue decisioni dal Dipartimento di Polizia Penitenziaria, tant'è che te lo confermerà. Ci sarà una collaborazione, no? Assolutamente, no, nel senso che, voglio dire, qualunque decisione ormai sulla salute di Alberto, finché era in rianimazione ed era praticamente un morto, ben se ne guardavano di prendere la responsabilità il medico del carcere e quindi l'hanno lasciata con molta, diciamo, facilità al dottor Ardizione. Ora che Alberto è fuori pericolo di vita, o potrebbe essere, beh, il DAP mette come il naso su come viene curato Alberto? E se si può aggiungere il supplizio alla pena, perché limitarsi? Guarda, l'ospedale ci ha risposto, perché noi chiaramente abbiamo chiesto, dice, per quanto concerne l'adegenza del signor Alberto Scagni, il paziente è sottoposto ad un regime di restrizione della libertà personale. Ovviamente l'ASLA è obbligata a rispettare le regole imposte dall'autorità giudiziaria, dicono. Ricordiamo infatti che è piantonato ore 24, H24, da due agenti della polizia penitenziaria. Dal fronte clinico, dopo la dimissione del reparto di rianimazione di Sanremo, il paziente è stato trasferito all'ospedale d'Imperia, preso in carico dalla fisiatria, per continuare a ricevere le cure del caso, effettuando la riabilitazione motoria a seguito delle lesioni subite. questo hanno risposto. Ora, Antonella, hai cinque minuti per stare con noi perché volevo sentire pure il garante. Certo, certo. Ho un debito di riconoscenza enorme nei confronti del dottor Saracino. Ecco, il garante è intervenuto. Doriano Saracino, lei che cosa ha potuto notare rispetto a quanto stava accadendo al signor Scagni e soprattutto come siete intervenuti? Buongiorno, innanzitutto. Bene, grazie per l'invito. Credo che la situazione di... La prima cosa da dire è questa, la complessità della situazione di Alberto Scagni sia per gli aspetti legati alla vicenda umana che coinvolge tutta la sua famiglia, sia legati al discorso della sua situazione dal punto di vista sanitario. Noi oggi dobbiamo guardare alla persona prima che al detenuto, prima che all'autore di reato e poi aggiungo un altro pezzo su cui vorrei spendere qualche parola. Dobbiamo guardare anche ad Alberto come vittima di reato e per questo io ho chiesto l'intervento al garante delle vittime di reato della Regione Liguria perché non dimentichiamo che Alberto è una persona che è stata vittima di un comportamento che consiste in lesioni, il sequestro di persona, sarà l'autorità giudiziaria poi a definire quali sono i profili del reato subito, ma che indubbiamente merita tutta l'assistenza che è dovuta alle vittime di reato in base alle direttive europee che parlano di assistenza psicologica, evitare quello che viene chiamata vittimizzazione secondaria, cioè il tornare a rivivere il trauma che si è subito. Tutto questo è un aspetto su cui tutta la comunità deve muoversi. Quello che a me sembra che sia stato carente nella vicenda di Scagni, di come è stata gestita, è il fatto che alla fine ognuno sia limitato a fare un pezzo della strada, ma in qualche modo invece dobbiamo fare tutti qualcosa di più. Cioè, faccio il discorso sulla riabilitazione fisiatrica, non entro nel merito di altre questioni. La riabilitazione fisiatrica di Scagni, che è iniziata in ospedale, eccetera, non può essere considerata alla stregua della riabilitazione fisiatrica di una persona che è dimessa dall'ospedale e va a casa sua ed ha la possibilità di muoversi con un ausilio. Che è un paziente psichiatrico. Cioè, il padre psichiatrico. Il problema è che il suo ritornare a casa vuol dire tornare in carcere e in carcere ci sono degli spazi angusti distretti nelle celle in cui vedo molto difficile se non è impossibile che Scagni possa alzarsi dal letto, fare movimento e in qualche modo proseguire in un percorso di riabilitazione. Cioè, non possiamo considerare le persone tutte uguali a prescindere dalle condizioni in cui si vive e dire va bene, ma... Cantonella, in quelle condizioni te l'hanno lasciato tuo figlio? raccontiamo che cosa gli hanno fatto perché sennò sembra che noi stiamo parlando di riabilitazione fisiatrica di un ginocchio rotto tanto per dire. No. Che cosa hanno fatto ad Alberto per quattro ore senza nessun tipo di controllo all'interno del carcere e come ne è uscito? Sì. Ancora peggio forse il fatto di mancato controllo in realtà gli agenti erano fuori dalla cella e Alberto questo lo ripete in modo insistente cioè erano lì che guardavano mentre lo massacravano quattro ore e questo me l'hanno fermato questo è molto grave e questo me l'hanno fermato i detenuti molto grave di fronte alla cella di Alberto quando ha fatto il sopralluogo si sono esposti anche al richiamo delle guardie carcerarie dicendomi mi dispiace noi abbiamo tentato di fare di tutto ci hanno fatto uscire cioè la penitenziaria ha fatto uscire i detenuti della cella che fronteggiava quella di Alberto dove si stava svolgendo il pestaggio affinché questi detenuti convincessero i picchiatori a smettere e addirittura questi detenuti poi quando la penitenziaria dopo quattro ore è stata autorizzata io questo non entro nel merito ma nella sostanza è successo così quattro ore agenti armati hanno guardato Alberto che lo massacravano questi detenuti sono entrati in cella a picchiare i picchiatori cioè mi sembra una giungla una giungla aspetta fammi capire un secondo perché gli agenti facciamo capire anche al pubblico come mai gli agenti penitenziari secondo la tua testimonianza perché noi non abbiamo parlato con loro lo faremo presto come mai non sono riusciti ad intervenire in quattro ore dentro una cella io ho letto dai giornali come si sono giustificati la penitenziaria si è giustificata dicendo che dovevano avere l'autorizzazione del magistrato di turno per entrare in cella quattro ore che era considerata una specie di sommossa c'era dentro Alberto massacrato con un bastone da due persone e misteriosamente un altro concellino chiuso in bagno tieni conto che i bagni non sono chiusi quindi c'è un altro piccolo mistero ma la procura sta facendo un'indagine io voglio sperare che qualcosa si chiarisca delle responsabilità in quante persone hanno massacrato tuo figlio? quanti erano? due persone nordafricane sono state definite dai giornali ma l'avvocato di Alberto deve ancora avere i nomi ora non sono stati della procura io so le cose che mi ha detto Alberto e le cose che mi hanno detto di straforo ripeto i detenuti che affronteggiavano la cella di Alberto allora lo hanno mandato in coma che danni ha intubato 20 giorni operato alla trachea dove gli hanno messo una placca perché era lesa la cartilagine operato poi allo zigomo successivamente perché gli eravano massacrato e gli stava crollando un occhio e rimasto intubato con un edema cerebrale che poi si è risolto una polmonite che è sopraggiunta poi dopo un'infezione polmonare e tuttora un'infezione polmonare tra l'altro è stato 20 giorni tra la vita e la morte perché voglio dire il fatto poi quando è stato stubato non si sapeva neanche le condizioni neurologiche voglio dire quindi questo è Antonella ha tuttora una grossa lesione a una gamba a un piede che non riesce a tenere sul nervo periferico della gamba sinistra per cui dentro questa cella è l'angusta in un'infermieria dove è isolato è piccolissima cosa c'è per cui non si può nemmeno muovere questo dice anche il garante il recupero fisico rispetto a tutto quello che gli hanno fatto considerate che è andato in rianimazione per 20 giorni in coma credo in coma indotto farmacologico è stata è stata una cosa terribile Antonella mia noi ci conosciamo da un po' di tempo tu lo sai che ti sono tanto vicina cerchiamo veramente di esserti di sostegno in tutto quello che possiamo fare tu sei una mamma che ha perso una figlia per mano di tuo figlio Alberto adesso ti sei ritrovata ad affrontare un altro dramma enorme perché ti stavano ammazzando anche Alberto cioè tu stavi perdendo un secondo figlio ho dovuto ho dovuto per dovere perché insomma in qualche modo si è riattivata in qualche modo una relazione diciamo così in questa enorme fragilità di Alberto tuttora fragilità psichica enorme che io ovviamente rilevo ma anche banalmente su variazioni di dosi farmacologiche dei farmaci cioè ma questo diciamo che quello verrà dopo chissà mai se verrà questa cura questa idea di curare anche la testa di Alberto ecco il problema è proprio quello esattamente questo di cui parleremo adesso so che ai pochi minuti io rimango un attimo con te chiedo scusa ai miei ospiti ma voglio far parlare Antonella adesso ci si sente impotenti davanti a tutto la tua è stata una lotta è stata una lotta ed è tuttora una lotta contro la stessa istituzione che avrebbe dovuto prima difendere tua figlia difendere voi adesso difendere per assurdo paradossalmente anche Alberto sì terribile devo dire devo dire molto molto pesante molto pesante ogni volta che le istituzioni manifestano davvero questa questa debolezza mi mi stanca molto mi stanca molto devo dire mi stanca molto perché ci sentiamo veramente un po' considerati persone che rompono le scatole ripeto anziché tentare di fare autocritica e dire come possiamo fare che questo disastro non succeda più a nessun altro veniamo tacciati e secondo me veniamo anche in qualche modo Alberto ne subisce le conseguenze come semplicemente persone che rompono le scatole per non dire peggio anziché semplicemente richiamare l'attenzione alla necessità che chi ha la responsabilità di determinate attività estremamente difficili come quello della sicurezza pubblica per le forze dell'ordine della salute mentale per gli psichiatri dell'ASL che debbano essere responsabilizzati degli atti che fanno e la nostra richiesta è in questo senso che ci siano delle responsabilità riconosciute e se ci sono degli errori purtroppo delle penalizzazioni usiamo questo termine delle penalizzazioni affinché in futuro le persone lavorino con coscienza perché questo è in tutti i lavori particolarmente in istituzioni che riguardano diritti civili sanciti dalla Costituzione e io speso per i cittadini italiani nella psichiatria tuo figlio non veniva curato prima non è stato curato durante il problema enorme i segnali importanti che aveva dato non viene curato nemmeno dopo non solo te l'hanno riconsegnato te l'hanno riconsegnato in fin di vita eh sì professore allora sicuramente mi auguro che adesso venga trattato dal punto di vista di un intervento farmacologico per un paziente che aveva delle patologie psichiatri che è piuttosto chiare e mi sento di dire che ovviamente doveva essere fermato a suo tempo dopo insomma certi comportamenti fossero stati interrotti sarebbe a quel punto stato utile l'intervento psichiatrico però solo dopo l'intervento delle forze dell'ordine che dovevano bloccarlo detto questo la situazione adesso è drammatica cioè io credo che questo ragazzo comunque sia debba essere trattato come un paziente a tutti gli effetti anzi ovviamente se ha una malattia psichiatrica oltre a tutti i danni che ha ricevuto deve essere trattata nella maniera più adeguata possibile mi auguro che ci sia anche all'interno del carcere un'equipe di psichiatri che lo possano seguire perché ha bisogno di essere trattato come doveva essere trattato in precedenza ovviamente in precedenza non è stato trattato dalla psichiatria perché prima doveva essere fermato la psichiatria non può rispondere a esigenze di ordine pubblico doveva essere fermato bloccato arrestato e curato professore una domanda al volo se posso ma secondo lei è un paziente che può essere governato in carcere curato in carcere assolutamente sì io non l'ho conosciuto personalmente ma ho letto molto bene tutte le carte tutta la storia tutte le interviste sono quelle situazioni che sono trattabili ovviamente non è che possiamo pensare che guarisce una persona di questo tipo ma può stare molto meglio può essere assolutamente gestibile con delle terapie hai paura che risucceda Antonella nel momento in cui Alberto di nuovo ritornerà a una pseudonormalità magari ritorna a una cella normale e tu hai paura che riaccada ma sì beh è la seconda volta ora non so se l'avete non ricordo se l'hai richiamato ma Alberto è stato picchiato a Camarazzi sì è vero è stato ricoverato dieci giorni in infermeria cioè quindi una volta può capitare nell'arte realtà carceraria che a sentire il professore che parlava prima cioè io ho visto cose e ho avuto racconti di cose drammatici che chiaramente da un carcere all'altro ci saranno differenze ma ci sono delle situazioni poi lo leggiamo purtroppo tragicamente tutti i giorni sui giornali che le ricadute esistono sulla gestione delle carceri in Italia oggi però voglio dire due volte tu capisci che il dubbio è legittimo il dubbio è legittimo soprattutto nella gestione che c'è stata questa seconda volta in cui c'è stata l'inerzia per quattro ore di vedere un uomo massacrato io io non ripeto non questa delle quattro ore è una cosa impensabile no è impensabile questa cosa guardate io quattro ore sono lunghissime sono tremende l'hanno picchiato con gli sgabelli infatti anche se viene considerata una sommossa poi una sommossa sono due persone dentro una cella che stanno creando una terza persona sono tre persone dentro una cella anche in caso di sommossa stiamo parlando scusate anche in caso di sommossa è utile l'intervento del dirigente del plesso non c'è bisogno di aspettare che intervenga la magistratura anche là Antonella so che devi andare grazie sai che hai le telecamere di storie italiane veramente a tua disposizione oggi se vuoi il cuore di mamma lo sento tu sei una mamma straordinaria sento il tuo come parli della tua bimba poverina veramente assurdo io mi sento molto molto vicina a te per una serie di cose grazie conosco anche il mondo degli istituti ci sono tante famiglie che vivono che vivono alcune cose simili non così forti così pesanti però simili a quello che stai vivendo tu credimi certo lo sappiamo e per questo noi cerchiamo di combattere per questo perché Alice non torna ma noi non vorremmo mai che nessuno provi l'abbandono che abbiamo provato noi poverina credimi che la lotta la battaglia che stai facendo e che il destino ti ha portato a dover no affrontare però è molto importante per tante famiglie e tante mamme credimi Alice che non è stata salvata noi siamo ancora tutti qua a parlarne ma Alice non è stata salvata Merina riassume tutti i dolori tutti Antonella ti voglio bene grazie ciao ciao grazie anche a Doriano Saracino e per quello che insomma ha fatto grazie da parte di tutti quanti noi vediamo in diretta grazie per essere intervenuto insomma ricordiamo che il garante fa un lavoro sicuramente di grande responsabilità eh se posso dire una cosa su questo è il patto di Alberto è una vicenda che va gestita complessivamente come provavo a dire cioè l'errore è stato a mio avviso quello di non considerare il rischio di aggressione che Alberto correva nel carcere di Sanremo quando già c'era stata un'aggressione del carcere di Marassi che è quella alle mie spalle da cui esco adesso stamattina non dobbiamo commettere lo stesso errore non dobbiamo mettere Alberto in una situazione di pericolo dobbiamo assisterlo perché il suo oriento nella realtà penitenziaria sia il più possibile funzionare la sua recupero non solo fisiologico ma anche dal punto di vista psicologico e psichiatrico il professore prima diceva che è assolutamente possibile curare in carcere questo tipo di situazioni non guarire ma curare va detto che la realtà della sofferenza psichiatrica in carcere è una realtà spesso un po' negletta il carcere di Sanremo è stata recentemente un'interrogazione parlamentare il ministro Nordio ha detto che sono state aumentate le ore di presidio psichiatrico nel carcere di Sanremo che sono passate da 8 ore a settimana a 25 quindi sono 25 ore di psichiatria per 250 detenuti ma in realtà il problema è che il carcere stesso che è patogeno il carcere stesso che crea questa sofferenza o che acquisisce la sofferenza di persone che hanno già una debolezza una difficoltà quindi noi dobbiamo intervenire su questo e io trovo anche un po' assurda la pena che è stata combinata ad Alberto Scagni perché sono 24 anni e 6 mesi per l'omicidio dopodiché andrà in REMS per curare diciamo la patologia psichiatrica c'è una sottovalutazione della malattia psichiatrica oggi perdonatemi che è spaventosa e lo dico a tutti i livelli non solo da un punto di vista culturale ma proprio anche sanitario economico politico da tutti i punti di vista siamo medicina di serie B lo dico io lo dicono gli psichiatri grazie Saraccino parliamo quando poi nella fattispecie